concilio di nicea c'è un precedente che questa lettera di papa dionigi a dionigi vescovo di alessandria scritta tra il 260 e il 268 contro triteisti e sabeliani perché qui in nuce avremo la la situazione come sta e la visione che la chiesa la grande chiesa per dire l'ortodossia nel suo complesso e aveva riguardo il mistero trinitario quindi papa dionigi scrive a questo vescovo presenta quello che poi sarà chiamata la dottrina della pericoresi la compenetrazione ma ancora questo termine poi andremo a parlare questo termine veniva usato dai dagli stoici per vedere come l'anima come il mondo come l'anima del mondo e compenetra tutto il mondo cioè l'omneuma sta nel mondo e non sarà ancora utilizzato dai cristiani sarà utilizzato più più tardi nel sesto secolo allora dice papa dionigi a buon diritto di seguito parlerò anche contro coloro che dividono lacerano e rendono vano l'annuncio più venerando della chiesa di dio la regenza unica di dio in tre forze indeterminate tre ipostasi e tre e divinità separate quindi andiamo a vedere che cosa vuole dire papa dionigi ho appreso che alcuni di quanti presso di voi catechizzano e insegnano la parola si collocano in una posizione diametralmente opposta alla convinzione di sabello questi infatti bestemmia dicendo che il figlio stesso è il padre viceversa quindi patripassianismo costoro invece annunciano in certo modo tre dei dividendo la santa unità in tre ipostasi del tutto separate e strane l'una all'altra badate bene che sta utilizzando il termine ipostasi no quindi il tre ipostasi in quel momento non era possibile parlare di ipostasi di tre ipostasi perché ipostasi era sinonimo di usia quindi tre sostanze separate noi poi tradurremo ipostasi come persone e separando ipostasi da usia allora noi potremo parlare di tre ipostasi in quel momento ipostasi e usia significavano presto a poco la stessa cosa quindi contro questi parla papa e allerta papa dionigi al vescovo è necessario infatti e qui c'è la la spiegazione che nel 260 in quella decade i cristiani ortodossi consideravano valida per parlare di dio è necessario infatti che il verbo divino sia unito al dio di tutte le cose ed è necessario che lo spirito santo rimanga e soggiorni in dio quindi il verbo divino e lo spirito santo appartengono alla sfera divina vi ricordate nel giudeo cristianesimo e questa queste sette cieli nei quali nel settimo cielo c'è dio e accanto il figlio e lo spirito santo e poi gli angeli che fanno da corte attorno a questo mistero trascendente quindi si rispecchia questa fede tradizionale quindi perciò è assolutamente necessario che anche la divina la divina trinità si racchia ricapitoli e venga riunita in uno come in un certo apice nel dio dico di tutte le cose onnipotente quindi il il verbo divino è unito al dio di tutte le cose lo spirito santo rimane e soggiorna in dio e la divina trinità si ricapitola e viene ricondotta a una unità che è il dio di tutte le cose l'onnipotente il concilio di nicea viene chiamato il grande santo sinodo dei 318 padri anche se nel massima afflusso non si può parlare se non di 250 vescovi che si radunano nella città di nicea dove c'era il l'imperatore è stato convocato per condannare l'eresia di ario non dimentichiamo però che è il grande eusevio di cesarea molto vicino teologo di di costantino e come si potrebbe dire e aveva un occhio di riguardo nei confronti di ario non dimentichiamo poi alla fine che l'ortodossia era una realtà piuttosto evanescente non era chiaramente stabilita eusevio ma tanti altri vescovi saranno molto favorevoli a ario perché in occidente sabelio aveva molti molte persone favorevoli poi il gruppo occidentale che facevano capo al papa e tra di loro si trovava anche marcello di ancira che sarà anche lui un monarchiano quindi possiamo dire detto un po semplicisticamente mentre i padri orientali eusevio tendevano ad essere subordinazionisti i padri occidentali con il papa tendevano ad essere monarchiani quindi per questo motivo la situazione era piuttosto complessa proprio perché non c'era un vocabolario che potesse aiutare a chiarire le cose almeno non dico chiarire il mistero ma chiarire la problematica che si stava intorno bene comunque si chiama per condannare l'eresia di ario quello che stavo appunto per dire che che ho appunto detto il partito dell'ortodossia era rappresentato da marcello di ancira e ustazio di anteocchia e atanasio atanasio diacono e marcello di ancira poi sarà condannato come monarchiano si elabora nel concilio di nicea e la dottrina della consostanzialità del figlio la omousia e verbic sintetizza questa espressione in questo modo il concetto di omousia del concilio di nicea radica l'unità di dio nell'essenza comune quindi c'è un'unica essenza che è comune al padre al figlio e allo spirito santo quello della generazione spirituale permette qui di pensare a una autodistinzione di dio che non contrasta con l'uguaglianza di essenza dei distinti cioè essendo una generazione puramente spirituale non collocherebbe una realtà diversa dalla sostanza del padre ma nella sostanza nell'unica sostanza divina una distinzione dovremo parlare più avanti di questo ma faccio un esempio un esempio che sarebbe del analogatum princeps quadnos quando noi parliamo di generazione parliamo di quello che negli esseri viventi significa dare la vita a un altro allora quando un uomo e una donna si mettono insieme generano un figlio che è della loro stessa natura viene fuori un essere che è della stessa natura dei genitori però questa generazione non essendo spirituale mette in atto mette in essere un soggetto che è realmente distinto dei genitori che ha una sostanza propria quindi i papà e mamma trasmettono con la generazione la natura ma la sostanza è diversa se noi immaginassimo una generazione puramente spirituale c'è un esempio che è appunto la generazione concettuale io genero un'idea genero un'idea mi metto a pensare a un libro io voglio scrivere un libro io sto concependo l'idea in certo senso quando parlo di un libro io parlo di un figlio di carta in quanto che questa idea quando la metto all'opera in qualche modo rappresenta quello che io sono perciò almeno nel gergo comune si dice ho partorito questo libro e questo libro è un mio figlio di carta mentre io sto concependo l'idea questa idea è parte di me non posso identificarla con me stesso ma non ha un'esistenza propria quindi la generazione spirituale mi serve per poter parlare dell'unità nella mia stessa natura nel mio stesso soggetto io genero un una realtà distinta da me ma che non ha non ha sostanza propria che non ha consistenza propria è un accidente nella generazione reale padre papà e mamma generano un figlio che porta con sé la stessa natura ma sono diversi di sostanza quindi sono due realtà separate quindi nessuna delle due immagini valgono ma tutte le due immagini insieme ci possono aiutare a pensare al concetto di omousia continueremo su questo perché sarà un tema ricorrente nei giorni che ci restano nel concilio di nicea si comporrà questo simbolo che è il simbolo niceno che poi sarà niceno costantinopolitano che voi conoscete già quindi si afferma che crediamo in un unico dio patera pantocratora un dio onnipotente panton oraton te cai auraton poieten creatore di tutte le cose visibile e invisibili quindi questo dio è creatore padre di tutte le cose crediamo anche in un genacurion jesun criston cai eis a un unico signore jesu cristo ton hiom tu zeum il figlio di dio genecenta ec tu patros monogene generato dal padre monogenito unigenito tu testin ec tes usias tu patros cioè vale a dire della stessa sostanza del padre dio da dio ricordatevi dio da dio fos ec fotos zeon alecinon ec ricordatevi qui l'espressione diario solo il padre è dio vero ovvero dio qui si dirà che il figlio è dio vero da dio vero quindi è generato come un dio vero come dio è generato cioè non è il padre ma non è una creatura è dio da dio ma attenzione qui perché dietro questa espressione voi lo sapete benissimo si può nascondere sabeglio sabeglio è inaguato no perché sabeglio e noeto e prassea pensavano che dio il padre generava generava se stesso come figlio capite generava se stesso come figlio quindi dire dio da dio potrebbe essere interpretato nella linea di sabeglio nella linea di noeto nella linea di prassea o prassea quindi qui il concilio essendo ortodosso sta lasciando una serie di problematiche che poi porteranno a diverse spaccature no semiariani macedoniani eunomiani anomei proprio perché per noi oggi il credo sembra molto chiaro vabbè veramente chiaro se andiamo a vederlo diciamo veramente ci sorpassa assolutamente però dall'altra parte ci sono tante problematiche aperte che sarà tutto i primi quattro secoli del cristianesimo grande epopea per capire che cosa noi crediamo qual è il dio nel quale noi crediamo no luce da luce dio vero da dio vero genecenta upo iecenta generato non creato homo usios homo usios to patri della stessa sostanza del padre dio ta panta e geneto dal quale tutto è stato creato la domanda qui è che non risolve il concilio di nicea è se dio genera il figlio si lo genera dall'eternità e dal padre ma lo genera in vista della creazione o questa generazione è indipendente dalla creazione dio da dio abbiamo detto che questa espressione poteva essere intesa anche in senso patripassiano quindi questa questa formula è un po' un compromesso tra le varie parti no è dio da dio però non è che dio genera se stesso no genera se stesso come figlio e patisse sulla croce questo è in essenza il patripassianismo dio da dio luce da luce dio vero da dio vero generato non non creato pu poi e senta omo homo usio stop patri questa è la novità dell'espressione che in qualche modo consacra un termine che era stato previamente condannato perché utilizzato da Paolo di Samosata nel concilio di Antiochia dio tapanta e geneto tutte le cose sono state fatte tramite lui quelle che stanno nel cielo e quelle che sono nella terra questo lo abbiamo visto se il logo si è unito a una carne o si è unito a una umanità completa poi la dimensione storica salvifica si è incarnato si è fatto uomo è risorto il terzo giorno ed è salito nei cieli verrà a giudicare i vivi e i morti e poi si limita semplicemente ad affermare la fede nello spirito santo senza maggiori spiegazioni che è questo hagiom neuma ci restava da vedere quello che sarà poi conosciuto come gli anatematismi cioè coloro che dicono il contrario di questa dottrina devono essere anatematizzata per farla breve vi ho messo qui il testo in italiano a coloro che dicono c'era un momento in cui non era e prima di essere generato non era e che fu originato dal nulla o da un'altra ipostasi o sostanza fate bene che qui utilizzano ipostasi o sostanza come sinonimi senza diciamo evidenziare la distinzione tra hypostasis cioè ciò che è collocato sotto e sostanza usia no? usia e che dicono che il figlio è trasformabile o mutevole la chiesa cattolica li anatematizza grazie a tutti